ragazzi buongiorno oggi si parte con un altro corso full detailing abbiamo tre allievi e durerà cinque giorni vi farò vedere come lo svolgiamo e voi state attenti questi sono i nostri prodotti per il lavaggio perché il primo giorno è lavare l'auto prepararla per la lucidatura si è lavato anche la testa stiamo applicando il prodotto per la decontaminazione chimica stiamo applicando quello della shiny garage qui sta facendo già l'effetto poi il risultato pulito qui stiamo applicando il prodotto per i moscerini bug off decontaminazione meccanica fai vedere la clay bar le contaminazioni e vetri così eliminiamo tutto il calcare ed è pronta per l'applicazione del nano e si mangia dai ragazzi buon appetito ragazzi abbiamo finito la prima giornata del corso andiamo a chiedere ai ragazzi cosa hanno imparato di nuovo oggi ragazzi come è andata oggi? bene bene interessante a lui non chiediamo perché tanto lui è rispetto quindi ok ci vediamo domani